I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di due uomini per il reato di truffa aggravata in quanto accusati nel 2022 di essersi presentati come corrieri di una ditta di spedizioni e di essersi fatti consegnare paventando conseguenze legali in caso di mancato pagamento da un ottantenne di maiori circa 15.000 euro in contanti necessari per sbloccare la consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.